L'ospedale San Massimo di Penne avrà i suoi lavori di potenziamento e riqualificazione. L'annuncio è stato dato, tramite comunicato stampa congiunto, da tre componenti del Consiglio Comunale di Penne, ovvero il Consigliere Comunale Provinciale Emilio Camplese, l'Assessore Comunale Lorenza Di Vincenzo e il Presidente del Consiglio Comunale Antonio Baldacchini. Il finanziamento complessivo di 12 milioni di euro sembra dunque confermato, visto che la convenzione necessaria tra il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio e il Ministero della Salute per dare il via libera a gara d'appalto e cantiere è stata sottoscritta il 9 giugno scorso ed è stata trasmessa allo stesso Dipartimento Regionale della Salute il 22 giugno, a conferma di quanto fu detto nel mese di maggio nel corso del sopralluogo nella struttura vestina quando i vertici della Regione Abruzzo ribadirono la rilevanza del nosocomio ufficializzando la previsione di 12 milioni e mezzo di euro per la ristrutturazione e messa in sicurezza del San Massimo sia sotto il profilo dei sistemi antincendio che della sismica. Dunque, continuano i consiglieri del Comune di Penne, una volta siglato l'accordo si partirà con un cantiere imponente che dimostrerà in maniera tangibile e concreta quanto il Governo regionale tenga la struttura ospedaliera della città vestina con l'obbligo di restituire al San Massimo, in tempi brevissimi, la sua funzione di ospedale di base pienamente operativo con un pronto soccorso aperto 24 ore su 24 e tanti nuovi spazi idonei. Con questa notizia, continuano i consiglieri, siamo sicuri di poter mettere fine anche i dubbi tirati in ballo dal consigliere regionale Domenico Pettinari il quale nei giorni scorsi, a seguito della lettura del faldone riguardante il progetto di ristrutturazione datato 2013-2014, denunciava la mancanza della convenzione firmata da entrambe le parti e quindi nulla di concreto per quanto riguarda i lavori da effettuare. Dunque, stando così le cose, per settembre potremmo assistere alla gara di appalto dei lavori ma non prima di aver apportato alcune modifiche alla vecchia progettazione datata 2013. Un pizzico di fiducia per i cittadini dell'area vestina che tutti i giorni sperano in una ripresa del presidio ospedaliero San Massimo una ripresa che dovrà essere sostenuta anche da nuove assunzioni di operatori sanitari che vadano a rinforzare i reparti che in questi mesi hanno lottato con le poche armi a disposizione la battaglia del Covid-19 a dimostrazione dell'importanza di un piccolo ospedale pronto a sopperire alle difficoltà dei grandi ospedali.